L'epidemia di Ebola si è manifestata il 9 febbraio nel sud della Guinea e in appena due mesi è stata dichiarata tra le più preoccupanti mai registrate dalla comparsa del virus 40 anni fa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è elevato il rischio che si diffonda anche in Europa, dove in alcuni aeroporti è scattato il codice rosso. Il vice direttore generale dell'OMS afferma che la sfida è particolarmente difficile a causa della grande dispersione geografica dei casi. Il virus si è diffuso in distretti lontani fra di loro e da qualche tempo ha raggiunto anche la capitale della Guinea-Conakry. Dai 157 casi confermati nel paese, 101 si sono rivelati mortali. Nella capitale, città portuale dove abitano più di un milione di persone, i contagiati sono una ventina. In Liberia 21, 10 dei quali si sono conclusi con il decesso dei pazienti. 9 casi sospetti sono stati finora registrati in Mali. Il virus Ebola è stato identificato per la prima volta nel 76 in Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo, all'epoca Zaire. Le vittime furono 280 su 318 persone infettate. Particolarmente esposte all'infezione sono i medici. Siamo di fronte al ceppo di Ebola più aggressivo, il ceppo Zaire, che uccide più di 9 persone su 10, spiega l'epidemiologo Michel Van Herp. Oggi non esistono trattamenti specifici in grado di neutralizzare il virus. Dopo un periodo di incubazione che va dai 2 ai 21 giorni, il virus causa febbre elevata, mal di testa, dolori muscolari, sintomi che spesso fanno pensare alla malaria. In un secondo momento subentrano vomito, diarrea e rash cutanei. Reni e fegato sono compromessi e il paziente soffre di emorragie, sia interne che esterne. Nel 90% dei casi la morte interviene dopo una settimana. Fino a oggi l'epidemia più grave era quella che nel 2000 si diffusi in Uganda, con un bilancio di 425 contagiati e 224 decessi. Il fatto che per la prima volta il virus abbia colpito nell'Africa occidentale, senza limitarsi soltanto ai villaggi, ma arrivando anche nelle città, è un ulteriore elemento di preoccupazione. La ricerca di una cura e di un vaccino sono ancora in alto mare. I vettori del virus sono molto probabilmente i grossi pipistrelli che si nutrono di frutte e abitano le foreste tropicali. Il contagio sarebbe passato alle scimmie e da queste all'uomo. La trasmissione avviene per contatto diretto con il sangue, i liquidi biologici e i tessuti infettati, sia di uomini che di animali, vivi o morti.